E' un testa-testa senza precedenti quello tra centro-sinistra e centro-destra per Regione Lombardia. La campagna elettorale che si appresta a entrare nel vivo con la presentazione dei due programmi si prospetta come una tra le più serrate di sempre. Una sfida all'ultimo voto tra Roberto Maroni, candidato per il centro-destra, e Umberto Ambrosoli che corre per il patto civico. Giovedì la coalizione di centro-sinistra firmerà il programma. Ultimi ritocchi in queste ore per il documento di 70 pagine che conterrà idee e impegni. Probabilmente già a giovedì potremmo darlo alle stampe. E' un programma sul quale c'è una grande convergenza. La sensibilità di tutto il mondo del centro-sinistra, da quello dei partiti e quello della società civile, converge nell'identificazione del lavoro come ambito nel quale dedicare tutti gli sforzi possibili. I sondaggi confermano che i due candidati sono appaiati nella corsa alla poltrona più alta di Palazzo Lombardia con Albertini distaccato al terzo posto. Una sfida che sarà decisa da un pugno di voti secondo le rilevazioni sulle intenzioni di voto. Per quello che riguarda la regione io ho visto sondaggi più diversi. La maggioranza mi fa maroni avanti di pochi punti percentuali. Mi hanno visto uno proprio stamattina che dà invece avanti Ambrosoli. Quindi davvero non lo so. Nei prossimi giorni Ambrosoli affronterà un intenso tour elettorale in Lombardia. Ad affiancarlo in alcune iniziative anche fuori Milano potrebbe esserci il sindaco Pisapia che ha sostenuto con forza la sua candidatura e che oggi ha dato la carica al centro-sinistra esortando tutti a cambiare marcia in campagna elettorale e a rispolverare quel modello di entusiasmo arancione che trionfò a Milano nel 2011. Quello che forse serve è dare una spinta ulteriore per comprendere, far comprendere a tutti che non si può pensare che chi ha rovinato la Lombardia, chi ha danneggiato l'Italia possa governare anche in futuro la regione.